Una richiesta di aiuto arriva dall'ospedale Cardarelli di Napoli. La scorsa settimana in sette giorni sono state 700 le persone che si sono recate al centro trasfusionale del nosocomio per donare il sangue. Una mobilitazione positiva, conseguenza anche delle campagne di informazione sull'importanza della donazione, ma che non basta a soddisfare la richiesta complessiva del centro trasfusionale che necessita di 48.000 sacche di sangue all'anno, 140 al giorno. Il timore che è considerato il periodo di ferie ci possa essere un calo ulteriore delle donazioni e che le scorte non siano sufficienti a garantire le tante trasfusioni che occorre fare ai pazienti che devono sottoporsi a interventi chirurgici o a terapie trasfusionali. Per questo motivo l'appello dell'ospedale a donare anche in questi giorni di ferie dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 12. Il mio invito è veramente forte verso le persone che abitudinalmente si riferiscono ai centri trasfusionali per donare, soprattutto in questo periodo prossimo al ferragosto che potrebbe trovare facilmente sguarnite le riserve del centro trasfusionale per la partenza di molti donatori occasionali. Quindi non dimenticatevi mai del vostro prezioso supporto. C'è poi l'emergenza nell'emergenza e riguarda la necessità di sangue salvavita per quei pazienti affetti da malattie rare del globulo rosso come la talassemia per cui in questi giorni già si sta procedendo a trasfusioni parziali per ovviare alle carenze, ha spiegato il dottor Paolo Ricchi responsabile dell'unità operativa malattie rare del globulo rosso dell'ospedale Cardarelli di Napoli. Adesso già viaggiamo con un'erogazione parziale quindi molti gruppi sono carenti come i gruppi negativi come lo zero per cui i pazienti che hanno questi gruppi purtroppo vengono il doppio delle volte quindi considerate invece di venire due volte al mese loro vengono quattro volte a volte sono anche rimandati e questo determina anche una riduzione della dell'entità di sangue che ricevono è un notevole peggioramento della loro qualità di vita